tre pretendenti si sfideranno davanti ai fornelli per conquistare il palato di una giovane donna la nostra madrina ogni sera sarà accompagnata da un padrino d'eccezione tu dovrai assaggiare e giudicare il piatto insieme a lui il re della cucina tutto questo ed altro in è il cuoco per me grazie